E se non ce la facciamo, e ve lo dico, è probabile che non ce la facciamo, perché stiamo sparando a un'anatra con un fucile che ancora non c'è. Ora che arriva il fucile è giusto, che impariamo a sparare, dobbiamo metterci in una condizione che possiamo provarci tante volte. Allora, uno, imparate qualcosa sul mondo delle criptovalute e fidatevi che ne avrete bisogno, perché arrivano, non le ferma qui nessuno. Due imparate qualcosa sulle decentralizzate e anche quelle arrivano, forse non arriveranno per cinque anni nel nostro mercato, ma arriveranno magari tra due anni nelle assicurazioni. Imparate, è educazione alla fine, non è educazione, scusate, è formazione. Poi conoscerete della bella gente e la community che Airbnb in teoria doveva creare, che non si è secondo me materializzata, si va a materializzare, perché non c'è più l'elefante Airbnb che dice fate community così io poi ci mangio sopra, diventa una cosa veramente, si fa una bella community e magari il risultato finale di questa cosa non sarà neanche trip, sarà una cosa che non c'entra niente. Però siccome ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, abbiamo fatto un progetto assieme, perché una cosa è trovarsi per bere la birra, una cosa è per fare cose assieme, che è completamente diverso, forse verranno fuori delle cose molto preziose. E questa molto più concreta, prima o poi questi portali di quali vi ho parlato diventano utilizzabili. Entrate presto voi, primo 5% ci fate per sei mesi, per un anno ci fate solo le prenotazioni, quindi un vantaggio indiretto.